L'hotel del sole è situato di fronte all'ingresso principale degli scavi di Pompei, nel centro cittadino e a 200 metri dal santuario della Beata Vergine del Santissimo Rosario. La presenza di personale multilingua e l'attenzione alle esigenze delle diverse culture consentono l'accoglienza di gruppi o turisti individuali provenienti da ogni parte del mondo. L'hotel tre stelle a Pompei, con tariffe molto convenienti, offre qualità e servizi paragonabili a strutture di categoria superiore. Il parcheggio privato sia per auto che per autobus e l'avvicinanza ai mezzi pubblici come la stazione della Circunvesuviana e la stazione di Tranitalia consente al turista di muoversi liberamente con distanze dai 10 ai 40 minuti verso le località vicine. La posizione strategica nel centro di Pompei lo rende il punto ideale di partenza per la visita al sito archeologico, al santuario, al vesuvio, ma anche alla costiera sorrentina e amalfitana e a tutti i luoghi di eccellenza turistica che offre il territorio circostante. La vista panoramica sugli scavi che si gode dal terrazzo delle camere o dalla sala ristorante fa vivere la sensazione di essere immersi nella storia. L'hotel del sole è ideale per studenti e famiglie. Infatti è possibile soggiornare anche in camere quadruple o camere comunicanti, con tariffe che comprendono sempre la prima colazione e facoltativamente la mezza pensione o la pensione completa. Particolare attenzione è dedicata alla colazione sempre inclusa nella tariffa di soggiorno e offre sia una varietà internazionale che un'ampia scelta di dolci, torte e delizie preparati ogni giorno dai pasticceri dello staff interno per garantire la freschezza e la genuinità delle prelibatezze offerte per cominciare piacevolmente la giornata. La struttura offre inoltre servizi personalizzati per il cliente business o viaggiatore d'affari che cerca una location comoda, funzionale e suggestiva per organizzare meeting, convention, riunioni di lavoro, usufruendo sia della sala convegni, posizionata al terzo piano con vista sugli scavi e attrezzata tecnologicamente, sia di una saletta privata idonea a piccoli e riservati incontri di lavoro. Servizi di ristorazione e banketing completano l'offerta riservata al cliente business. Prodotti genuini, cordialità e comfort fanno del ristorante Pizzeria del Sole un luogo unico, dove gustare i migliori piatti della cucina napoletana e italiana preparati ad arte dal nostro chef e dal nostro pizzaiolo, entrambi i napoletani veraci e già affermati nel mondo della ristorazione. Tutte le pietanze sono inoltre basate su ingredienti di altissima qualità a chilometro zero, per lo più provenienti dal nostro prezioso orto, che può essere ammirato nell'area esterna al ristorante. Siamo aperti tutti i giorni, a pranzo e a cena, con la possibilità di consumare uno squisito pasto accanto al camino nei mesi invernali o in veranda durante le giornate baciate dal sole. Il nostro staff specializzato è infine al tuo servizio per l'organizzazione di Stop Lunch per gruppi, eventi e cerimonie. Hotel del Sole, il tuo punto di riferimento a Pompei. Ti aspettiamo! Ciao! Ciao!